Benvenuti a questo nuovo video tutorial nel quale vi voglio spiegare come recita il titolo, come si installa il plugin per Flash, per vedere i video Flash nel vostro browser internet. Si tratta di un tema suggerito, quindi è qualcuno di voi che seguite il canale che mi ha chiesto di poter avere a disposizione delle istruzioni in questo contesto. E allora eccomi qua. Dunque, quando sul vostro sistema Ubuntu non è ancora installato Flash, a dipendenza del tipo di browser, cioè di navigatore internet che usate, potrebbe apparire un avviso che indica che vi invita ad installare Flash perché sul browser avete aperto una pagina con dei contenuti Flash, che sia un video o una pubblicità, e appunto il browser si accorge della mancanza del plugin, non può mostrarvi il contenuto e ve lo chiede direttamente lui. Ecco, questo modo di procedere però che io ho provato ad usare nel passato non sempre funziona a dovere, cioè almeno dall'esperienza che ho avuto io, ripeto, nel passato, perché di recente non ho più usato questo modo, a volte succedeva che magari partiva l'installazione, finiva anche l'installazione, però poi in realtà non era installato nulla. Non so se sia un difetto ormai del passato e non più presente attualmente, ma comunque è un metodo, diciamo, quello di aspettare l'invito del browser ad installare Flash che io ho poi scartato con il tempo e ho preferito altre strade che sono poi quelle che vi mostro rapidamente qui di seguito. Allora, oltre all'avviso del browser, ci sono almeno altre tre opzioni per installare il plugin Flash che sono una è al momento dell'installazione, quindi quando voi installate da zero un nuovo sistema Ubuntu, voi lo installate e nel primo passo dell'installazione che è poi questo, quindi vedete preparazione all'installazione di Ubuntu, ecco in questo primo passo dove vi viene presentato se avete tutti i requisiti necessari a una buona installazione affinché finisca in modo corretto, quindi i tre vistini qui avete anche due opzioni qua, di cui la seconda è quella che interessa a noi, vedete l'ho evidenziata anche con una freccia rossa che si chiama installare software di terze parti, ecco poi c'è una frase sotto che spiega il plugin per poter ascoltare i file audio mp3 concessi in licenza eccetera eccetera eccetera, ecco questa è un'opzione che se volete avere alla fine dell'installazione del vostro sistema il plugin di Flash, di Adobe Flash già installato dovete attivare, ecco una delle domande più frequenti per chi passa ad un sistema basato su Linux come Ubuntu da altri sistemi operativi proprietari è come mai questo software non è già installato da solo automaticamente devo pensarci io, ecco è una questione di licenze appunto, essendo Linux e il mondo Linux basato su software aperto quindi senza licenze proprietarie e licenze commerciali o quasi senza ecco perché ovviamente Linux non vuol dire che sia tutto gratuito, ci possono essere anche dei software a pagamento sotto Linux ma in modo di gestire le licenze solitamente diverso, comunque non in tutti i paesi del mondo è permesso utilizzare questi tipi di software come questi plugin per leggere i file audio mp3, dicevo non in tutti i paesi è permesso farlo senza pagare una licenza ecco quindi a dipendenza del vostro paese, di dove vi trovate voi, dove abitate, dove vivete potete in buona coscienza diciamo così attivare questa opzione o meno comunque che io sappia che chi ha maggiori problemi con questi tipi di situazioni di software con licenze che dovrebbero essere pagate eccetera eccetera sono gli Stati Uniti che io sappia non sono un esperto in questo campo ma almeno nel mio paese e in Europa che io sappia tutti possono attivare tranquillamente questa opzione senza incorrere in sanzioni o in violazioni di leggi particolari che io sappia o quantomeno sono sicuro che anche negli Stati Uniti molti attivano l'opzione senza preoccuparsi troppo ecco ma questo è un altro discorso comunque niente chiusa la parentesi quindi se state per installare un sistema di Ubuntu e volete già avere ripeto il plugin Flash per il vostro browser già installato attivate già qui questa opzione e siete a posto e questa è la prima possibilità seconda possibilità e terza possibilità sono da utilizzare quando il sistema è già installato quindi ormai l'avete già installato è troppo tardi per usare quell'opzione che vi ho appena mostrato potete però tranquillamente aprire il vostro Ubuntu Software Center e adesso eccolo qua che l'avevo già aperto Ubuntu Software Center quindi lo aprite e cercate questo pacchetto da installare Ubuntu Restricted Extras ecco già dal nome vedete sono dei formati proprietari che possono avere dei problemi di licenza in alcuni paesi quindi li hanno raggruppati in questo metà pacchetto Ubuntu Restricted Extras che include anche altre installazioni come vedremo adesso quindi voi cercate qui nel campo di ricerca Ubuntu Restricted vediamo se è sufficiente ecco non è neanche necessario scrivere Extras comunque vedete che io l'ho già installato naturalmente questo pacchetto che è un metà pacchetto metà pacchetto vuol dire che voi installate questo e lui si aggancia ad altri pacchetti sotto componenti aggiuntivi vedete qui per i vari formati Xvid, Mpeg, MP3, alcuni fonti di Microsoft che possono essere necessari e soprattutto vedete qui il nostro plugin flash che è proprio quello che ci serve ed è il soggetto di questo video quindi io ho messo tra parentesi consigliato perché comunque a parte flash prima o poi vi capiterà di voler leggere qualche formato video audio particolare con un formato magari appunto proprietario se voi installate questo Ubuntu Restricted Extras avete con ogni probabilità già tutto incluso per poter leggere qualsiasi formato quindi siete a posto per quello che io dico consigliato secondo me qualsiasi opzione scegliete per installare flash flash comunque se volete avere un'installazione più completa a più ampio raggio per vari formati installatevi questo pacchetto quindi una volta installato questo Restricted Extras siete praticamente a posto coperti per tutti i formati terza e ultima possibilità e se proprio non vi interessano altri formati ma vi interessa solo e specificatamente il plugin Adobe Flash basta che cercate questo pacchetto da installare specifico quindi il plugin Adobe Flash oppure forse è sufficiente scrivere flash vediamo un po' ecco vabbè il primo che si presenta vedete voi se scrivere tutto nel campetto di ricerca io ho scritto solo flash tanto il primo che appare eccolo qua con la sua icona caratteristica il plugin di flash quindi se voi installate questo pacchetto vi tra virgolette accontentate di installare solo il plugin di flash e non altri formati comunque ecco vedete che il vostro plugin è installato e questo è quanto vi dovevo e quanto dovevo all'iscritto o all'iscritta che mi ha chiesto di parlare specificatamente dell'installazione del plugin di flash un'ultima nota prima di chiudere se una volta installato il plugin di Adobe Flash e avete nel vostro pc in dotazione una scheda grafica Nvidia e vi accorgete che i colori dei video che state guardando non sono naturali cioè non sono normali quindi mi permetto di indirizzarvi al mio altro video in cui spiego come risolvere questo problema che è proprio specifico per schede grafiche Nvidia quindi andate sul mio canale vi cercate il video con questo titolo quindi il problema dei colori naturali nei video flash su internet e potete risolvere tranquillamente quel problema e vedervi, godervi i vostri video con i colori naturali come sono quelli originali voilà, vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video, un saluto, ciao ciao